Ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari, in apertura parliamo di reddito di cittadinanza, oggi alle 15 si presenta a Roma il portale web dedicato alla misura, non mancano però le polemiche su come saranno gestite le domande dagli uffici regionali e comunali, Roberto Maggi. La prima di milioni di card che immetteranno nell'economia reale danaro spendibile in tutto il paese è il giorno del reddito di cittadinanza, il ministro e vicepremier Luigi Di Maio presenta la misura bandiera del Movimento 5 Stelle con l'attivazione del portale www.redditodicittadinanza.it Dal sito web sarà possibile ottenere tutte le informazioni per accedere alla misura che dovrebbe poi partire a tutti gli effetti dal prossimo 6 marzo, da quel giorno sarà possibile fare la domanda online nei CAF o negli uffici postali per ottenere la card familiare che metterà a disposizione dei beneficiari fino a 500 euro di integrazione al reddito più un supplemento come contributo per l'alloggio. Non mancano però i dubbi su come dovranno essere gestite le pratiche, solo a Bari sono 11 mila le persone che potenzialmente ne potrebbero usufruire, il dubbio è che i centri per l'impiego già oggi al collasso non saranno in condizione di evadere la pioggia di richieste che inevitabilmente giungeranno tramite il portale. A Bari c'è un unico centro con soli 7 dipendenti, come faranno a gestire tutto questo? Ha affermato pochi giorni fa l'assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, senza contare che non tutti i 41 comuni dell'area metropolitana dispongono ad oggi di centri per l'impiego che sono poco più di una decina su tutta la provincia. Stessi dubbi riguardano le otto ore che molti dei beneficiari dovrebbero svolgere presso i comuni. Le risposte a molti di questi quesiti giungeranno dunque solo nei prossimi giorni, quando svelate nel dettaglio le carte partirà la fase organizzativa. I carabinieri di Trigiano hanno identificato e arrestato i tre malfattori responsabili della violenta rapina alla gioielleria Sarni Oro del centro commerciale Mongolfiera di Santa Caterina, avvenuta il 7 giugno scorso. Si tratta di tre pregiudicati brindisini di 20, 25 e 27 anni. I malviventi in quella circostanza avevano asportato monili per un valore di oltre 59 mila euro e fatto perdere le proprie tracce scappando a bordo di un'auto sportiva ritrovata poi nei pressi di Cella Mare dopo 8 mesi di indagine, quindi portata avanti tramite il confronto con i profili DNA estrapolati dall'autovettura utilizzata per il colpo, i carabinieri hanno arrestato i tre rapinatori che adesso si trovano ristretti nel carcere di Brindisi. Torna la carta tutto treno, i possessori dell'abbonamento regionale Trenitalia potranno già da oggi viaggiare su Intercity e Freccia Bianca sulle lunghe tratte regionali pagando un supplemento di soli 40 euro al mese. L'assessore regionale ai trasporti Gianni Giannini ha presentato le novità nel servizio. Con la carta tutto treno partiamo dai servizi regionali per cui chi è abbonato ai servizi regionali può con un supplemento di 40 euro fruire anche della possibilità di viaggiare su Intercity e Freccia Bianca. Questo oltre a migliorare la qualità anche dell'offerta la migliora anche sulla possibilità di avere più opportunità di viaggio, per cui se uno perde un treno regionale può all'occorrenza fruire del Freccia Bianca o dell'Intercity disponibile. Il termine ultimo per la rinegoziazione del mutuo è per il 24 febbraio. Oltre questa data la sopravvivenza del villaggio Beruca che si occupa di pet therapy per le persone in difficoltà sarà in pericolo. Sentiamo. Ci sono tante, tante famiglie che sono già venute da noi al nostro centro, al nostro villaggio o perché hanno bisogno di questo tipo di assistenza e di cura. L'urgenza è quella della rinegoziazione del mutuo, presupposto essenziale per l'abbassamento della rata mensile da corrispondere per la sopravvivenza del centro. L'associazione i custodi del creato lancia un appello al comune di Bari perché il tempo stringe. La deadline è fissata per il 24 febbraio, termine oltre il quale la struttura creata per aiutare le persone in difficoltà con il metodo della pet therapy rimarrà solo un miraggio. Questa associazione ha avuto dei finanziamenti regionali e l'aiuto dal comune quando ha partecipato al bando del terreno, ha edificato, investito proprio da Naro per offrire, lo scopo di tutti gli enti era di offrire alla popolazione, sia ambiente che non ambiente, un servizio innovativo. Per continuare a offrire questo servizio in convenzione è necessario rinegoziare il mutuo iniziale, anche perché tutti sappiamo che le banche hanno cambiato i tassi. Ma da Palazzo di Città fanno sapere che la delibera è già pronta e che con ogni probabilità andrà in giunta entro la fine di questa settimana, dopodiché il passaggio in Consiglio Comunale. I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Bari in collaborazione con il comando della Guardia di Finanza hanno scoperto 43.280 euro non dichiarati. Il denaro era in possesso di un cittadino macedone in partenza per l'Albania. Il trasgressore si avvalso della facoltà di effettuare l'oblazione immediata, secondo la normativa vigente, versando immediatamente un importo pari a 4.992 euro. No Alcol No Crash è il nome del progetto gestito dalla cooperativa sociale CAPS per educare i ragazzi contro l'uso di droghe, alcol e cellulari mentre si è impegnati alla guida. Questa mattina la conferenza stampa. Famiglia, amici e amore. Falleva sui valori più importanti per l'essere umano la nuova campagna di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi contro l'utilizzo di droghe e alcol quando ci si mette alla guida. Si chiama Pensa a Chi Resta ed è inserita all'interno del progetto No Alcol No Crash da portare nelle scuole di Bari e Bitonto e gestito dalla cooperativa sociale CAPS in collaborazione tra gli altri dei comuni di Bari e Bitonto e dell'ufficio del garante regionale dei diritti del minore. Una serie di spot che prende le mosse soprattutto dall'abbassamento dell'età in cui per la prima volta ci si approccia le dipendenze da sostanze psicoattive. Da non sottovalutare inoltre lo sconsiderato uso dei cellulari, troppo spesso causa di distrazione quando si è al volante. Non a caso, soprattutto per i più piccoli non ancora muniti di patente, la speciale bicicletta su cui grazie ad uno speciale software si potrà simulare un percorso mentre si è contestualmente impegnati in uno scambio di messaggini sul cellulare. La campagna è già disponibile sui social network e i video saranno trasmessi dalle emittenti locali e da alcuni cinema. La cartellonistica invece sarà visibile sia nel capologo pugliese che nel comune di Bitonto. Abbiamo cercato con questa campagna di sensibilizzazione di puntare sui legami affettivi, appunto quelli che si instaurano all'interno di una famiglia, quelli che si instaurano tra due fidanzati e quelli tra amiche, le classiche amiche del cuore. Questo per meglio far percepire a qualsiasi fascia d'età il rischio dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, l'uso di alcol o anche l'utilizzo di smartphone mentre si ha la guida o mentre si attraversa la strada. Quindi per far capire meglio il rischio dell'utilizzo sconsiderato di questi strumenti. E' andato in scena sabato scorso il concerto di Solidarietà Pro Croce Rossa italiana, a nessuno escluso i dettagli nel servizio. Nessuno escluso è questo il nome dell'evento di beneficenza organizzato dal Comitato di Bari della Croce Rossa italiana in collaborazione con il Centro di Mobilitazione Meridionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa italiana e con la terza regione aerea Comando Scuole Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare. Un concerto eseguito dalla banda musicale del Corpo Militare Croce Rossa italiana che ha visto l'esecuzione di brani tratti dalle colonne sonore di famose rappresentazioni cinematografiche. E' una cena di gara per concludere la serata. Questa è l'iniziativa in programma dell'evento che ha avuto luogo sabato pomeriggio presso l'aeroporto militare di Bari Palese. Grazie alla vendita dei biglietti riusciremo ad acquistare del materiale sanitario che servirà sia per le nostre attività e sia per delle attività che noi facciamo come formazione alla popolazione. Un'occasione di solidarietà in cambio di musica e bellezza. Un'occasione importante non solo per il Comitato di Bari Croce Rossa italiana da anni impegnato nel nostro territorio, ma per tutti i cittadini baresi che giorno dopo giorno decidono di donare il loro tempo per supportare le attività di volontariato. Noi siamo volontari, il nostro principio fondamentale è l'umanità, quindi siamo necessariamente presenti lì ovunque ci sia necessità. Ecco perché è importante il rapporto con la popolazione, perché noi siamo ormai una struttura diciamo privata, quindi per tutte le nostre attività abbiamo bisogno di entrate da recuperarci. In parte siamo noi stessi con tutti i volontari, quindi abbiamo bisogno dell'aiuto della gente proprio per portare avanti le attività che sono a favore della gente. E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di lasciarvi vi ricordo che per notizie e aggiornamenti potete consultare il nostro sito internet www.telebari.it. A più tardi con informazioni di Telebari. Il meteo è offerto da per influenzare il tempo nelle nostre estreme regioni meridionali. E così vediamo la previsione della nuvolosità sul nostro paese con appunto ancora degli annuvolamenti che interesseranno il sud Italia, anche se col passare delle ore queste nubi lasciano spazio a schiarite via via sempre più ampie. Come precipitazioni, acquazzoni e rovesci saranno ancora possibili all'estremo sud. In particolare tra la Calabria e la Sicilia, attenzione, sul vestante ionico della bassa Calabria rischiamo anche piogge di forte intensità. Quindi in definitiva, giornate di martedì all'insegna del bel tempo al centro nord con ampie zone di sereno. Si fanno avanti delle belle schiarite anche nelle regioni meridionali peninsulari però Calabria e Sicilia continueranno a vedere molte nuvole, precipitazioni diffuse e come dicevamo anche qualche temporale, cioè piogge di moderato forte intensità. Con questo è tutto per i dettagli sulle singole località, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it